A Padova si riuniscono quelli che si possono definire gli stati generali dell'agricoltura veneta, i maggiori esperti di un comparto che conta 120.000 imprese e 6 miliardi di prodotto lordo, un comparto che si guarda allo specchio e inizia a programmare il futuro, a disegnare le strategie che segneranno la nostra agricoltura da qui al 2030. Un'agricoltura che deve essere sempre più rispettosa dell'ambiente, sempre più sostenibile, che deve dare reddito ai nostri agricoltori, ma reddito vero che sia meno carica di burocrazia per quanto riguarda anche le attività che noi facciamo, ma che fa lo Stato e la comunità europea e che soprattutto mantenga nei territori l'attività dei nostri agricoltori. Un gruppo di ricerca che comprende anche le università di Padova, Venezia e Verona ha lavorato per offrire supporto alla regione sulle strategie da adottare nei prossimi dieci anni, le migliori opportunità e i punti di debolezza del settore primario passati ai raggi X e proiettati nel futuro. Il punto di forza, se io devo pensare agli aspetti economici, è senz'altro quello dei prodotti di qualità, prodotti di qualità che generano un export per, dal punto di vista del sistema agroalimentare Veneto, veramente di grande rilievo e che ci pone ai vertici tra le regioni italiane. punti di debolezza, come al solito ce ne sono diversi, forse una dimensione delle imprese agricole che ancora non è ottimale. E' comunque un Veneto che vuole crescere come dimostra l'impiego dei fondi per il programma di sviluppo rurale. Noi siamo il numero uno delle regioni italiane sia per avanzamento di spesa sia per domande soddisfatte, più di 55 mila domande soddisfatte dai nostri agricoltori per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda comunque gli investimenti, i giovani, la sostenibilità, il biologico. Quindi abbiamo del miliardo 169 milioni mai destinati più di un miliardo.